Ogni nuovo conto corrente che viene aperto doniamo un mese di scuola ad un bimbo di Haiti. Sottolineo che un mese di scuola non significa solo insegnarli a scrivere e a leggere, significa salvarlo dalla strada, pulirlo, lavarlo, vestirlo. Credo che nel mondo bancario, nel nostro lavoro, che cerchiamo tutti i giorni di stare a fianco ai nostri clienti e cercare di insegnarli come fanno i medici con i loro pazienti, noi con i nostri clienti, informarli come muoversi dal punto di vista finanziario, assicurativo, previdenziale, farlo con una leggerezza maggiore, quindi l'apnea aiuta anche a questo, a vivere meglio, a superare lo stress, a mangiare bene. Questo lo trasmetterò a tutti i miei colleghi, a tutti i miei clienti, quindi ringrazio Dario Cipriani per questa splendida opportunità e la professoressa Gornia.